Stamattina mi sono svegliato e ho pensato ma qual è il modo migliore per iniziare davvero col botto la settimana? Voi sapete che lunedì è il giorno migliore in assoluto per me. Riaprono i mercati, torno a lavorare, meglio di così non potrebbe essere. Allora ho pensato, ma perché non condividere i risultati dei miei lavori sui ritracciamenti di Fibonacci? Ti si è mai chiesto funzionano, non funzionano, come vanno utilizzati, quali sono le criticità? Tutte le risposte in questo video. Benvenuti a tutti signori in questo nuovo video, io sono Francesco Buzzi, insegno come guadagnare sui mercati senza diventarne schiavi, direi di iniziare subito dopo la sigla. Tutti i lavori su Fibonacci, ADX, supporti resistenze, tutti i setup, tutti i pattern che ho fatto li ho racchiusi in un nuovo corso, Backtechnica si chiama, link in descrizione con tutte le informazioni, costa veramente niente e soprattutto c'ha la garanzia, quindi soddisfatto e rimborsato. Praticamente lo prendete gratis e poi vi vedrete, è una roba pazzesca. Quindi link in descrizione per chiunque vuole approfondire questi discorsi di test, dei setup discrezionali classici. Dentro tutto questo c'è proprio il lavoro che ho fatto su Fibonacci. Allora, voi sapete che io non sono esperto di setup discrezionali, anche se sono partito come trader discrezionale. Ho abbandonato però abbastanza presto le classiche tecniche da discrezionale, anche se ho approfondito all'inizio, quasi dieci anni fa, un po' Fibonacci, anche perché le persone che seguivo parlavano di Fibonacci. Ma ad esempio non ho mai approfondito cose come le onde di Elliot, o di Wolf, o le forchette di Andrews, cose di questo genere. Diciamo che Fibonacci è l'unica cosa che ho toccato, anche se non per molto, di tipo grafico in questo modo. Allora, i ritracciamenti di Fibonacci teoricamente partono dal principio della sequenza di Fibonacci, no? Secondo la quale la somma dei due numeri precedenti forma una sequenza infinita, 1 più 1, 2, 1 più 2, 3, 2 più 3, 5, 5 più 3, 8, eccetera, 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 ed è una sequenza che si trova anche moltissimo in natura. Allora, volendo cercare di far entrare questa sequenza nel trading, è venuto fuori che i ritracciamenti di Fibonacci sarebbero potuti essere utili. I ritracciamenti di Fibonacci hanno delle soglie, appunto, prestabilite, fisse, quindi il 12.3, il 23.6, 38.2, 0.50, 61.8, 78.6, eccetera, eccetera. Poi gli esperti mi sapranno dire quale livello è migliore o peggiore. Ma partiamo dal presupposto. Come si può utilizzare il ritracciamento di Fibonacci e che risultati dà? Beh, da quel che io so è che bisogna tracciare dal precedente massimo relativo fino al successivo minimo relativo, appunto, la distanza massima, l'ampiezza dentro il quale tracciare, appunto, i ritracciamenti. TradingView e tanti altri software danno questa cosa in automatico e quindi noi abbiamo una sorta di griglia. Ora, prima di arrivare, ovviamente, ai risultati, perché si parla sempre di trading automatico, si parla di test, si parla di backtest, si parla di performance report, eccetera, io ho un paio di approfondimenti da dover fare necessariamente, per questo sposterò il microfono qua. E il primo, appunto, riguarda le soglie. Quindi noi abbiamo, chissà, ditemi se si sente bene, il massimo, abbiamo il minimo, abbiamo tutta una serie di soglie sopra il 50 e sotto il 50%, ok? Credo che letteratura dica quasi sempre di prendere ogni ritracciamento come inversione di trend. Quindi il prezzo arriva su questo ritracciamento, che è, che ne so, 23.6 e il prezzo da lì rimbalza. Ok, ma come facciamo a capire se funzionano in automatico? Cioè, come facciamo a fare un backtest vero, che non si basi sulle nostre percezioni di una singola situazione come questa, no? Noi vogliamo vedere se funziona a lungo tutto lo storico, vogliamo vedere se potrà continuare a funzionare in futuro, vogliamo vedere su quali feature, su quali strumenti, su quali time frame funziona. Beh, noi dobbiamo risolvere due cose fondamentali, dicevo. Uno, il massimo e il minimo precedenti, che cosa sono? Due, cosa fare dei singoli ritracciamenti. Io ho dato per scontato che noi vogliamo utilizzare i ritracciamenti classici, quindi la cosa fondamentale di Fibonacci sono i ritracciamenti, quindi non li ho toccati. Ma queste due cose vanno risolte. Allora, i massimi e i minimi, abbiamo detto, e i ritracciamenti. Cioè, cosa ce ne facciamo? Sono cose fondamentali che ci permettono di testare questa idea e di capire se funzionano effettivamente. Riguardo i massimi e i minimi, si può fare abbastanza, non tutto. Il discrezionale ha dalla sua questa possibilità di decidere discrezionalmente, visivamente, in base alla sua esperienza, se un massimo relativo è giusto per lui. Con giusto vuol dire qualsiasi cosa. Punto. Noi dobbiamo settarlo dentro delle regole quadrate, specifiche. Quindi, ad esempio, possiamo usare il massimo della settimana. Il massimo della settimana è un massimo relativo. Punto. Possiamo utilizzare il massimo della settimana precedente. Possiamo utilizzare il massimo del mese. O possiamo utilizzare il massimo di tot barre. Capite che è esclusivamente proprio quadrato, certificato. E sempre così manca del tocco, ok? Cosa che non si può mai replicare. Il tocco per il 99% dei casi fa perdere il discrezionale, quello 1% poi guadagna di più di un bravo sistematico. Ma questo è. Quindi ci limitiamo. Dobbiamo per forza descrivere i massimi e i minimi dentro alcune soglie specifiche, come quelle che ho detto. Due. Cosa facciamo sui ritracciamenti? Perché su questo ritracciamento dobbiamo comprare e non vendere per la continuazione? Questo è da testare. È tutto da testare. Cioè non si può supporre che noi abbiamo già le risposte. Il grande pregio del trading automatico è che ti permette di trovare le risposte semplicemente chiedendole al computer. Cioè lanciando una pallina contro il muro ti torna indietro con delle informazioni. Il discrezionale questa cosa non ce l'ha, bene o male non ce l'ha. Questo lo posso ammettere anche i discrezionali senza alcun problema. Questo funzionamento dipende da vari fattori, uno dei quali è il comportamento del future. Banalmente, se siamo sull'SP500 andando in modo grezzo, quando il prezzo tocca un ritracciamento verso il basso tipicamente noi dobbiamo comprare. Quando siamo su crude oil e il prezzo tocca un ritracciamento verso il basso tipicamente dovremo vendere. Questa è la più grande distinzione, è un po' la base anche del metodo scrocchiarello che ti permette di fare soldi, di creare trading system funzionanti a partire dalle caratteristiche dello strumento finanziario. La realtà è che comunque va testato, cioè di base funziona così, ma ripeto il pregio dell'automatico è chiedere al computer, cioè non è che c'è da chiedere, no perché noi dobbiamo già sapere quello che vogliamo ottenere, non ha senso. La grande bellezza del trading automatico è avere le verità svelate. Quindi i due più grandi problemi sono questi qua e io li ho messi in un codice e ovviamente li ho spiegati nella parte del corso di back tecnica costa niente ed è gratis perché c'è la garanzia, quindi non rischiate niente in questo senso e in cui faccio vedere anche il codice, in cui faccio vedere l'applicazione, in cui faccio vedere, eh? Ops, non mi stavo facendo vedere, ecco. In cui faccio vedere anche il codice, l'applicazione è un codice assolutamente completo, eccetera, eccetera. Alcuni risultati dipendono ovviamente dal fisico di riferimento, ovviamente nel corso c'è anche l'indicatore e la spiegazione su come funziona l'indicatore, ma se vogliamo rispondere alla domanda Fibonacci funziona? Sì, può funzionare, può avere questo risultato. Dipende dallo strumento finanziario, dipende dai livelli e da come li utilizziamo. Se vuoi vedere, le possibilità sono assolutamente infinite. Possiamo selezionare diversi tipi di livelli. Weekly, il sito precedente, il mensile. Possiamo selezionare livelli diversi, cioè i ritracciamenti di Fibonacci diversi, anche se io non li tocco perché Fibonacci funziona così. Possiamo costruire sei tipi di sistemi diversi. Possiamo utilizzare delle uscite sul ritracciamento o no. Possiamo utilizzare un'uscita a barre, possiamo utilizzare un altro filtro che adesso non vi dico, ma che migliora addirittura le performance. Ma di per sé funziona. Questo è il risultato sul Nasdaq e questo è il risultato, seppur grezzo, sull'euro. In vent'anni, ovviamente. Ora, quindi Fibonacci è la soluzione a tutti i mali? No, assolutamente. Come tutte le cose che facciamo il lunedì. Sono indicatori, sono setup, sono supporti. Fare qualcosa che funzioni con un indicatore non è tanto lontano da quello che potrebbe fare anche una scimmia. Il segreto è poi lavorare sulla validazione, ma ciò che mi preme spiegarvi è che si può utilizzare tutto, ma bisogna, uno, descrivere tutto molto bene. Quindi non posso backtestare qualcosa che dice a seconda di come mi sento la mattina, fai così o cosà, perché il computer non lo sa. Oppure, io so che tutte le condizioni sono sempre A, però oggi penso che sia B perché me lo dice l'istinto. Questo il computer non lo può sapere. Due, ovviamente bisogna scrivere tutto questo, bisogna testarlo, bisogna giudicare il performance report. Cioè, che cosa vuol dire questa equity line brutta, crescente ma non perfetta, su euro? Sono delle performance che mi piacciono? Perché? Perché no? Quali sono le performance giuste? Perché 2 di profit factor è rischioso? Perché su Nasdaq andiamo più long che short? Ci va bene 579 dollari di average trade? Ci va bene 1,62 profit factor? Eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è il discorso di tradarlo live, ma quello è al passo successivo. Quindi, tutte le risposte ovviamente sono in back tecnica, quindi link in descrizione assolutamente, e soprattutto per il codice, che questa volta non vi verrà dato nella buzz letter, come al solito, come ogni tanto ho deciso di fare, ma è dentro il corso, che ripeto è rischio zero, perché è soddisfatti e rimborsati. Abbiamo parlato di Fibonacci, sono molto contento, non lo sto ancora utilizzando come base di un sistema, ma il test, l'analisi, mi ha dato un sacco di spunti interessanti, mi ha fatto costruire l'indicatore, mi ha fatto costruire diversi sistemi utili, anche se non ancora finiti, e quindi ottimi spunti mi sono arrivati da questo studio, che era un po' di tempo che volevo fare. Detto questo, vi lascio al corso, quindi link in descrizione, domani, dubbi e perplessità, sempre lì, oppure 800 475 300, e ci vediamo con un nuovo video, mercoledì, se non vado errato. Ciao!